Nel 1906 si costituisce a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. Fu questo un avvenimento di straordinaria importanza non solo nella storia del movimento operaio organizzato, ma anche nel sistema politico e nelle relazioni economiche. Il primo segretario è Rinaldo Rigola, eletto nonostante la sua cecità, che rimane a capo dell'organizzazione fino al 1918. Convinto assertore che la funzione del sindacato è quella di risolvere i problemi concreti ed immediati dei lavoratori, in piena autonomia dai partiti politici. Per quello che riguarda il movimento operaio organizzato occorre ricordare che le prime forme di organizzazione sindacali, le leghe di resistenza, si erano costituite già alla fine degli anni Ottanta e da esse erano nate le Camere del Lavoro e, per altri versi, le Federazioni Nazionali di Mestiere. Le Camere del Lavoro Meridionali, nate anch'esse alla fine dell'Ottocento, si erano caratterizzate per un costante conflitto con lo Stato, gli agrari e le organizzazioni criminali. Il Partito Socialista era nato a Genova nel 1892, dopo l'esperienza del Partito Operaio Italiano, che si era costituito a Milano agli inizi del 1880, ed era stato sciolto da autorità nel 1886. Una delle caratteristiche più significative della storia del movimento operaio italiano è costituita proprio dall'affermazione di un tessuto di organismi sindacali che avvengono in settori economici e in settori produttivi, che stanno ancora a cavallo tra l'agricoltura, la manifattura, l'edilizia, i servizi infrastrutturali, quali le ferrovie, i lavori domestici, i lavori delle grandi aree urbane. Il sindacato non dipenderà né nella nascita né nel suo sviluppo esclusivamente dalla organizzazione produttiva della grande fabbrica. E' proprio all'inizio del secolo che questo tessuto di associazionismo sindacale, federale e camerale raggiunge il massimo della sua diffusione e il massimo delle conquiste, soprattutto sul terreno economico e rivendicativo. Un posto di assoluto rilievo, naturalmente, anche in Europa, unico, lo ha la nascita della Federazione dei Lavoratori della Terra. La quale organizzazione conquisterà in termini di diritti economici e di diritti sociali delle conquiste che colpiranno profondamente l'immaginazione, ma anche colpiranno il potere degli agrari e delle classi dirigenti. Grazie. 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 Grazie.